Il primo e il secondo tempo è venuto in mente quello che ho suggerito. Si è andato a fare pipì? Sì, mi è venuto in mente e ho detto abbiamo segnato presto con l'Argentina nel 90, ci hanno recuperato e hanno vinto i rigori. Finirà così. Beppe, anche così noi, Beppe, vent'anni, quindici anni dopo. Ma chi ci ha detto? Però, vi possiamo raccontare questa cosa? Abbiamo avuto la fortuna di commentare un buon piano vinto e un'europea. Però, Beppe, quando noi siamo usciti dalla prima telecronaca, che abbiamo fatto la prova insieme, che cosa c'è stata? Un'eclissi di sole, della testina. Un'eclissi di sole e del secolo. E tu sai che gli antichi queste cose credono. Grazie ragazzi, è stato bellissimo. Spero che sia stato bello per voi. Abbracciatevi anche voi. Quanto è stato bello per noi. E qui è per noi siamo benissimo.